Conosciamo un po' tutto del momento che stiamo vivendo noi italiani per il Covid-19, tra ansia, paura e una soluzione del problema che ancora non vediamo, o meglio, non riusciamo ad ipotizzare. Ma che succede all'estero? È tutto più chiaro? Lo abbiamo chiesto in diretta telefonica ad una giovane maestra amatesina che vive all'estero da anni. Signora Monica, buongiorno. Con quale città sto parlando esattamente? Lo dica lei i nostri ascoltatori. Buonasera, io vivo a Londra. Come state vivendo questo momento per evitare il contagio? C'è paura? Che clima si respira? Noi in verità ci siamo già abbastanza chiusi prima che Boris decidesse di chiudere. Il clima, fino a quando non ha fatto il lockdown, era tranquillo, la gente andava al mare. Le attività ci dicono siano tutte ferme, penso ad esempio alle scuole, ai ristoranti, è così? I ristoranti sono chiusi da una settimana circa, anzi avevano già chiuso di loro prima che lui decidesse di chiudere. E anche altri negozi, tipo queste grandi catene, questi famosi negozi che abbiamo, che ne so, TK Max, Primark, avevano già deciso di chiudere prima che ci fosse la chiusura definitiva. Per quanto riguarda le scuole, il discorso è diverso. Cioè in pratica le scuole direi che non è vero che sono chiuse, perché in pratica i bambini, i figli dei key workers, che sarebbero i medici, i nurses, gli infermieri, tutti gli insegnanti, ma anche i drawlici fanno parte di questa categoria e vabbè quelli appartenenti al social services e quelli dei supermercati, ne ho sicuramente dimenticati qualcuno. Sono appunto questi key workers, quindi loro hanno la possibilità di mandare i figli a scuola, a scuola o all'asilo. E questo crea un attimo di confusione perché in pratica dovrebbero essere all'incirca il 50% dei bambini che sono entitled, possono andare a scuola. In pratica succede che soprattutto negli asili non si rispetta questo social distancing, la distanza di sicurezza non c'è. Perché giustamente come si fa con i bambini, i bambini così piccoli tra l'altro, posso capire, in una secondaria, la nostra scuola superiore si può mantenere la distanza di sicurezza, ma all'asilo sicuramente no. I tamponi vengono effettuati a tutti? I tamponi non vengono effettuati, anzi prima era anche peggio, perché se si chiamava un mese fa l'111 che non lo so potrebbe essere considerato quasi come un dottore della mutua telefonico, chiamiamolo così, quando si chiamava questo 1-1-1 e si fornivano i sintomi del coronavirus, se si rispondeva che non si era stato a contatto con qualcuno proveniente dall'estero, cioè da posti quali l'Italia o la Cina, o che non si era stato a contatto con nessuno che era stato diagnosticato, in pratica non veniva neanche considerato un caso di coronavirus, quindi persone che chiamavano con i sintomi non venivano proprio prese in considerazione. Per la spesa o per altri generi di prima necessità, come siete organizzati? Potete uscire? Noi fortunatamente per quanto riguarda la spesa ci siamo organizzati ragionevolmente, quindi abbiamo abbastanza cartigienica e la pasta che effettivamente non abbiamo potuto comprarla nei supermercati e l'abbiamo comprata online, quindi siamo andati su un sito di prodotti italiani e abbiamo comprato la pasta. Per il resto adesso si trova tutto, cioè il latte ancora scarseggia, ma tanto se si prende quello fresco si trova, quindi adesso è migliorata la situazione. Signora Monica, allora noi la ringraziamo per la sua disponibilità, le facciamo gli auguri affinché tutto vada per il modo migliore. Grazie ancora. No, grazie a lei e buona serata.